Lorenzo, finalmente oggi sei ritornato a giocare, una bella prestazione da parte tua, zero gol subiti, insomma ci voleva dopo quella brutta prestazione che c'è stata a Pucetta, no? Sì, sì, ci voleva proprio questa partita, spero di aver rispettato la fiducia del mister, anzi lo ringrazio perché questa settimana mi sono allenato bene e quindi il mister l'ha notato e mi ha schierato in campo, quindi lo ringrazio per la fiducia. Come è stato Lorenzo questo periodo? Perché sicuramente non è stato semplice, tu sei un ragazzo molto giovane, comunque anche molto promettente, l'ho dimostrato in altre partite, a prescindere da quella di Canistro, però sei stato bravo in altre occasioni, sicuramente non è semplice immagino, no? Dopo quella partita. No, non è stato semplice, però comunque sono rimasto sempre sul pezzo, ho dato sempre il meglio di me in allenamento e quindi diciamo questo periodo è stato vanificato appunto dalla presenza di oggi. Qual è il rapporto tra i tre portieri? C'è un altro portiere molto giovane come te che è a Sinopoli, c'è assieme poi di Girolamo che è arrivato e che sicuramente ti può dare una mano come te l'ha data l'anno scorso a Paterno, no? Sì, sì, assolutamente, il rapporto tra di noi è un grandissimo rapporto, l'arrivo di Michael ovviamente ha portato grande, grandissima anzi direi fiducia sia da parte mia che da parte di Antonio e quindi ci stiamo allenando molto meglio rispetto a magari a prima che arrivasse lui diciamo. Parlando un po' più in generale della squadra, più in generale del campionato, per il momento l'Aquila è davanti a tutti i 15 punti dal Mutignano, aspettando ovviamente la partita di domani del Mutignano. Secondo te c'è ancora tanta strada a fare anche se comunque il campionato è piuttosto delineato, no? Però sentendo Cappellacci insomma mai dire mai sul campionato. No, no, la strada è ancora lunga, non dobbiamo fare assolutamente caso ai punti che ci distanziano dalla seconda e appunto dobbiamo continuare su questa strada che diciamo è la strada giusta per poi arrivare alla vittoria del campionato. Può essere per te il riscatto, cioè dopo questa partita magari cercare di cambiare un po' le carte in tavola e battere sia Sinopoli che magari ultimamente ha giocato più rispetto a te e sia di Girolamo? Guarda, mi auguro di sì a livello personale, però diciamo che l'importante è il bene della squadra, quindi il mister farà la sua scelta e lo farà sicuramente per la squadra. Come è stato il tuo percorso qui all'Aquila? Ti sei ambientato bene? Sì, mi sono ambientato subito benissimo, mi sono trovato molto molto bene con i compagni, con la società, con la città e anche con i rifosi.